Dopo i numerosi tavoli di confronto a livello locale, la complessa vicenda della crisi CADLA 2G è approdata nella sede della regione toscana. Ad affrontare il dibattito è stato l'assessore alle attività produttive, credito e lavoro Gianfranco Simoncini, insieme alle organizzazioni sindacali dell'azienda e a una rappresentanza delle istituzioni locali. La rete di supermercati 2G conta 200 dipendenti ad Arezzo e circa 600 in 36 punti vendita distribuiti su più regioni. È da tempo in difficoltà e ha richiesto per i suoi lavoratori, fino ad oggi in contratto di solidarietà, la cassa integrazione straordinaria. Una fase preliminare durante la quale è stata esposta la situazione di grave difficoltà della società a Simoncini e per concordare i passi futuri e le modalità attraverso le quali la regione possa concretamente farsi vicina alle necessità dei lavoratori. Chiederemo un incontro urgente con i rappresentanti dell'azienda, ha affermato l'assessore Simoncini, per capire le prospettive e sollecitare garanzie a tutela dei livelli occupazionali. Una vicenda che ha commentato anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi durante la sua visita all'ospedale San Donato di Arezzo. Simoncini segue attentamente la vicenda e troveremo senza altro le soluzioni migliori, anche per garantire gli strumenti della protezione sociale a cui i lavoratori hanno diretto.